Grazie Presidente, questo emendamento va in correzione di un altro emendamento che diceva più o meno le stesse cose, però corregge un parere della sovrintendenza capitolina che vado a spiegare. All'articolo 24 si chiede di inserire un nuovo comma 13 dove la giunta capitolina entro 60 giorni dovrebbe approvare le modifiche al catalogo dell'arredo urbano rivedendone i contenuti e inserendo gli elementi appropriati, almeno uno per ciascuna zona di ubicazione per le seguenti tipologie presenti all'allegato B e c'è una serie di tipologie, ombrelloni, tende, pannellature, fiotiere, elementi complementari, apparecchi di riscaldamento. Prima erano compresi anche le pedane e i disfasori, la sovrintendenza ha chiesto di toglierli, noi li abbiamo tolti. Quindi questo è l'emendamento per appunto venire incontro alle osservazioni della sovrintendenza in proposito. Grazie.